Sanità, approvati gli obiettivi, passa in Consiglio regionale la risoluzione che raccoglie il lavoro degli Stati Generali sui servizi sanitari della Toscana. Buonasera e ben ritrovati a Monitor Consiglio. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato a maggioranza la risoluzione della Commissione Sanità sui principali obiettivi delle politiche per la salute della Toscana dopo gli Stati Generali della Salute che si sono tenuti nei giorni scorsi. L'atto è stato approvato dal Consiglio con 23 voti a favore e 15 voti contrari, accolti 16 emendamenti presentati dai consiglieri del PD. Tra questi si interviene sul ruolo delle farmacie all'interno dei servizi sanitari di prossimità, sulla medicina complementare e integrata, sulla riqualificazione e il potenziamento dei servizi relativi alla salute mentale. Ma sentiamoli interviste che abbiamo realizzato a margine del Consiglio regionale. Una valutazione positiva perché saranno votate stamani delle risoluzioni che naturalmente fra maggioranza e minoranza potranno essere più o meno condivise fra di loro, ma quantomeno danno delle indicazioni su quello che come Giunta, come Regione Toscana io considero, ovvero noi abbiamo avuto la legge di organizzazione del nostro sistema sanitario nel 2005, la legge 40, l'abbiamo vista modificare con l'allargamento delle ASL da 10 a 3, quelle territoriali, con la legge 84 del 2015, dopo 10 anni. Oggi, dopo 7 anni, siamo nelle condizioni di perfezionare ancora la legge. Quindi andiamo in una riforma del sistema sanitario regionale cercando di accentuare aspetti che non modificano, non stravolgono l'impalcatura dell'attuale sistema, ma che ad esempio possono dare una maggiore corresponsabilità ai direttori generali per quanto riguarda la programmazione, possono accentuare il ruolo dei direttori dell'ospedale, possono accrescere i poteri dei distretti, visto le ASL grandi e quindi la necessità di decentrare un po' le decisioni sul piano dei distretti. E contemporaneamente il tutto si accompagna a un forte ruolo della medicina sul territorio, che vedrà con il piano nazionale di ripresa e resilienza alla Toscana, avere la possibilità di costruire nuove o adeguare 77 case di comunità, quelle che noi finora abbiamo chiamato case della salute, portando il cittadino magari a trovare nella casa di comunità, dove ci sono ambulatori, specialisti, farmacia, infermieri che poi operano sul territorio come i medici di base e quindi evitare di andare a ingolfare i pronti soccorsi di cui ci rendiamo conto anche in questi giorni, esserci forse l'elemento di maggiore criticità del sistema. La via sostiene il documento degli stati generali della salute, un lavoro buono di ascolto che ha portato a confrontare il Consiglio regionale con tanti operatori del sistema sanitario per dimostrare che la riforma fatta nel 2015 era una riforma giusta, fu molto combattuta, io allora ero presidente della Commissione Sanità, un lavoro straordinario che ha messo in sicurezza l'organizzazione del sistema sanitario toscano, lo conferma ai vertici dei livelli nazionali come modalità organizzativa grazie anche ovviamente alla qualità dei propri operatori e professionisti ma soprattutto dimostra quando la politica fa scelte coraggiosi e diventano lungimiranti, queste poi portano dei risultati positivi, l'abbiamo visto sotto il Covid, adesso c'è da riorganizzare il sistema ulteriormente, da migliorarlo rispetto alle risposte nuove che questa pandemia ha fatto emergere, nello stesso tempo c'è una consapevolezza che le risorse servono e da lì c'è un tema che noi abbiamo sempre posto, fosse stato per noi avremmo avuto anche le risorse del MES, se si va a vedere oggi i tassi di interesse che livelli avranno, non soltanto adesso ma nei prossimi anni, avremmo dimostrato che quelle risorse praticamente le avremmo avuto in maniera gratuita e quindi questo è un po' di oltre 30 miliardi in più che la sanità avrebbe avuto e è accascata anche la regione toscana, detto questo le risorse ci sono, arriveranno investimenti, serve personale però intanto una risposta importante l'abbiamo data. Noi abbiamo fatto un'analisi a 360 gradi e quindi è riguardato intanto dei macro temi che sono le risorse e la necessità di personale sanitario adeguato, formato, motivato che sono le due precondizioni per svolgere un po' tutta l'attività, poi la grande attenzione da dedicare al tema della prevenzione di tutti i determinanti della salute che sono l'elemento sul quale si baserà anche la sostenibilità in futuro del servizio sanitario regionale e poi ci siamo concentrati sul tema della governance, dopo dal 2015 c'è stata la riforma e quindi abbiamo rivalutato analizzando i dati come hanno funzionato le reti cliniche nell'ambito delle tre aziende sanitarie, evidenziando però la necessità di rafforzare il territorio disponendo l'obbligatorietà della società della salute in ogni zona distretto della Toscana e rafforzando dal punto di vista personale e di risorse. Poi ovviamente la questione è riguardata anche la non autosufficienza, il tema della disabilità e l'emergenza urgenza dove bisogna omogeneizzare sostanzialmente il servizio in Toscana e poi tutto il tema della riorganizzazione del territorio che con il PNRR richiederà forse la sfida più importante dei prossimi anni. Ovviamente la mozione riguarda un po' tutti gli aspetti, poi anche per quanto riguarda l'innovazione digitale come elemento essenziale e trasversale sul quale investire molto nei prossimi anni e a partire da un'immediata resa di interoperabilità dei sistemi all'innovazione che nei prossimi anni porterà addirittura anche da un punto di vista medio sempre più verso una medicina personalizzata. Ovviamente quando si parla di salute gli aspetti sono tantissimi, li abbiamo riassunti in questa risoluzione che impegna anche il Consiglio e la Giunta nei prossimi mesi a una serie di azioni tra i quali la revisione della legge 40, il nuovo piano socio-sanitario regionale, quella che riguarda una revisione complessiva degli enti di garanzia come il Governo clinico e l'Agenzia regionale di sanità. L'impianto è stato a livello generale positivo, però ovviamente io ho fatto un esempio a Gianni per richiamare perché abbiamo presentato una nostra risoluzione. Picasso ha due periodi importanti, il periodo rosa e il periodo azzurro e l'arlecchino è in tutte e due ma sono completamente diversi, per cui la nostra risoluzione che non ci viene permesso di presentarla viene eliminata perché dice è sovrapponibile all'altra ma si basa su degli architravi completamente diversi perché noi vogliamo tre, anziché le tre asle vogliamo le asle provinciali, noi vogliamo che il direttore generale non sia nominato dal Presidente Gianni ma sia una concertazione con i territori, quindi con i sindaci, con le società della salute, con la conferenza dei sindaci, noi vogliamo che il CUP sia rivoluzionato perché ci devono essere due agende, una di primo accesso che a un certo momento viene preso in carico dai reparti, l'altra sarebbe un'accettazione da parte dei reparti, quindi una volta che uno è dentro il sistema viene in qualche modo gestito dai reparti, quindi non è più una lista di attesa ma è una programmazione a lungo termine. La nostra posizione è completamente diversa, il fatto che non ci facciano presentare una risoluzione ci costringe a presentare degli emendamenti, se questi emendamenti non saranno accettati è ovvio che non possiamo riconoscerci nella risoluzione presentata e licenziata dalla terza commissione a cui noi comunque abbiamo partecipato ma che non vede le linee principali essere condivisibili. Sicuramente la commissione ha fatto un lavoro quanto mai opportuno, nel momento in cui ci si approccia comunque ad intervenire sugli aspetti più critici della sanità toscana, hanno voluto fare una fotografia e quindi dare poi degli indirizzi alla giunta. È chiaro che è un tema assolutamente complesso sul quale però ci sono alcuni aspetti che meritano di essere rilevati, anzitutto il concetto di prevenzione è un concetto di prevenzione che è assolutamente condivisibile, più si previene e quindi più si favoriscono anche forme di educazione, stili di vita, consumi consapevoli, meno si accede al servizio sanitario e questo deve essere l'obiettivo perché il servizio sanitario è comunque sia un costo per l'utenza. È chiaro che ci sono altri aspetti poi, la questione ad esempio delle aree interne, noi abbiamo una toscana che presenta forti differenze anche rispetto ai servizi sanitari, è chiaro che di fronte a una popolazione che invecchia, che quindi ha necessità di avere determinati servizi quanto più possibili di prossimità, dall'altro però non possiamo anche pensare di sacrificare famiglie che molto spesso vivono in aree fuori dal territorio urbanizzato ma che molto spesso scontano ad esempio l'insufficienza di servizi pediatrici. Noi abbiamo in Toscana una media di mille bambini a pediatra nelle aree della provincia e questo non è assolutamente accettabile, quindi io mi auguro che anche le nuove strutture che dovrebbero arrivare con il PNRR quantomeno siano calibrate su ambiti di servizio ottimali per far sì che effettivamente ci sia un bacino di utenza sufficiente a giustificare quel tipo di investimento. Su questo io mi aspetto ci siano delle risposte forti da parte anche dell'assessore. Non sfugge poi la questione finanziaria, noi dobbiamo assolutamente agganciare la programmazione e l'organizzazione di tutto il sistema a partire dalle ASL fino agli ospedali e tutte le strutture correlate. Se noi non programmiamo adeguatamente la spesa è impensabile riuscire ad avere un equilibrio di bilancio e questo lo facciamo a nostro parere intervenendo magari all'interno dell'assessorato con una direzione che sia proprio dedicata al monitoraggio costante sulle risorse. Se monitoriamo bene le risorse vengono esercite in modo efficiente e anche i cittadini ne beneficiano perché a questo punto potremmo pensare che anche temi come le liste d'attesa infinite e attraverso una migliore organizzazione del servizio possano in qualche modo quantomeno essere corretti. È stato un lavoro di un anno intenso e che finalmente ha visto tutti i contributi degli operatori della sanità che hanno affrontato questi due difficili anni di pandemia. Ma quello che ne possiamo adesso trarre è una proposta di risoluzione che ovviamente è stata declinata nella visione della maggioranza che governa questa regione che noi definiremo estremamente tiepida e tardiva per tanti punti di vista. Tiepida perché gli impegni che si sono assunti sono estremamente generici in alcuni casi. Mancano di quegli indicatori che secondo noi sono fondamentali. Molti vengono definiti dal MES che è l'organismo, il soggetto che ogni anno esprime un giudizio sulla qualità del sistema sanitario toscano. Però per molti altri rimane un'evanescenza delle proposte, degli impegni e la tardività perché molti di questi impegni che adesso sono stati presi all'interno di questa risoluzione sono derivati fondamentalmente da quelle che sono state le proposte che anche il Movimento 5 Stelle ha fatto nella scorsa legislatura. E soprattutto manca un'ammissione di errori fondamentali che negli ultimi anni, grazie anzi a causa dei tagli lineari che sono stati fatti in molti settori coperti come razionalizzazioni hanno sofferto moltissimi settori della sanità. La sanità territoriale, le liste di attesa che invece avevano ricevuto un contributo dal Governo con la Ministra Grillo, i posti letto che sono stati anche quelli tagliati. Insomma, una sanità che se oggi soffre più del necessario e non è più all'altezza della Toscana Felix di un tempo è colpa anche di alcune scelte che sono state fatte in passato come quella delle Maxi Asle, più volte criticate su cui mai e dico mai si è tornati indietro nemmeno in questa proposta di risoluzione. Allora, diciamo che i motivi sono fondamentalmente due. Il primo, che mi fa estremamente piacere dal capogruppo di Fratelli d'Italia è che Fratelli d'Italia per l'ennesima volta ha scelto di non confrontarsi con la maggioranza semplicemente dicendo no alle proposte che sono arrivate da chi oggi è chiamato a governare ma presentando una sua proposta di risoluzione. Abbiamo presentato in aula un documento di 60 pagine che illustra il nostro modo di intendere la sanità toscana che su alcuni punti è in linea con quello dell'attuale maggioranza su tanti punti differisce. Questo dimostra che Fratelli d'Italia, come abbiamo detto fin dal primo giorno non ha intenzione di stare cinque anni in aula a dire di no alle proposte della maggioranza ma ha intenzione in cinque anni di raccontare ai cittadini toscani la propria visione di regione la propria visione di governo regionale e l'abbiamo fatto anche sulla sanità. E la seconda perché nel documento della maggioranza ci sono individuate anche con molta onestà perché al presente Sostegni, che ringrazio per il lavoro che ha svolto con questi stati generali riconosco l'onestà di aver visto anche l'attuale decadenza della sanità toscana rispetto al passato e attenzione, lo dico a scanso d'equivoci decadenza della sanità toscana non vuol dire che oggi la Toscana non abbia più medici di eccellenza o che sia costretta a lavorare in strutture fatiscenti non degne di una regione del 2022. La Toscana per fortuna, viva Dio, ha tantissimi medici competenti e ha strutture tuttora all'avanguardia che fanno invidia a tante altre regioni d'Italia o a tanti altri stati d'Europa ma nei vari punti che la maggioranza riconosce vi è quella del fatto che il governo nazionale negli ultimi dieci anni abbia sempre utilizzato la sanità come prima fonte di tagli non abbia sbloccato quell'imbuto formativo che non consente a chi completa il ciclo di studi in medicina ai giovani che si laureano in medicina di poter accedere alle specializzazioni perché mancano i medici specializzanti non mancano i medici in generale in Toscana mancano i medici che si occupano di emergenza-urgenza e mancano i medici specializzati quindi l'accusa è giusta c'è soltanto un piccolo cortocircuito sul quale abbiamo puntato il dito e che ci fa sì che non possiamo votare quel documento il fatto che in questi dieci anni negli ultimi dieci anni se si fa salva la parentesi del governo Conte 1 quello che ha visto al governo 5 Stelle e Lega per nove anni il Partito Democratico ha governato e non è possibile oggi dire che la colpa è del fatto che il governo nazionale ha tagliato o non ha sbloccato l'imbuto formativo al governo nazionale vi era lo stesso Partito che ha governato in Toscana motivo per il quale c'è un cortocircuito siamo d'accordo sull'analisi non siamo d'accordo sulla soluzione questo lavoro è propedeutico alla maggioranza cioè c'è una contrapposizione chiara e netta fra chi governa cioè la giunta di questa regione e il consiglio regionale che lo sostiene cioè i membri del Partito Democratico esiste un tema tutto dentro la maggioranza oggi si è certificata la sfiducia da parte del gruppo del PD nei confronti del governatore Gianni e della sua giunta ma che senso ha mi domando a due anni dalle elezioni e dopo che il presidente Gianni aveva presentato con la sua giunta il programma di governo dove si parlava di sanità fare una proposta di risoluzione degli stati generali si è partiti prima con la crisi di maggioranza rispetto al non assessore poi al sottosegretario poi c'è stata una riunione di maggioranza per il cambio di passo così l'hanno chiamato rispetto al governatore Gianni poi si è sfiduciato la giunta su Fidi poi si è continuato sulle infrastrutture ora sulla sanità e domani si scopre che verranno fatti gli stati generali della cultura e chissà magari anche quelli dello sport ce lo dicano chiaro esiste un problema se lo risolvano fra di loro quello a cui noi non possiamo partecipare è un gioco di rimballo fra giunta e partito democratico che lo sostiene sulle spalle dei cittadini ci sono 800 mila persone in lista d'attesa ci sono 300 milioni di euro che devono essere ripianati sui bilanci della sanità le persone non riescono a fare a prenotare una visita e questi del partito democratico del centro-sinistra stanno ore a discutere per mettersi d'accordo fra di loro andiamo alle elezioni subito noi siamo pronti a farlo abbiamo dimostrato dove governiamo la scorsa tornata delle elezioni amministrative vinciamo i cittadini premiano il buon governo il presidente Gianni venga in consiglio regionale ponga la fiducia sul suo programma di governo noi siamo pronti ad andare alle elezioni il partito democratico ci sembra che sia più attaccato alle poltrone rispetto al benessere dei cittadini è tutto anche per questo appuntamento con Morito il Consiglio vi ringrazio per l'attenzione vi auguro una buona serata grazie a tutti grazie a tutti